Il pupillo di Samerio, posso chiamarlo Pupillo? Sono certo Fammi vedere come fare Vedi come nascono i cornetti di Bruni? Cornetti di Bruni o del pupillo? Quali sono i cornetti di Pupillo? Facciamo vedere che li fai due Se no qua mi dà molti complimenti a Samerio Non c'è più niente Ma i complimenti vanno comunque a Samerio Dopo che ha messo la foto Quando ti hanno detto che è bello? Buonissimo No, vediamo quando è bello